A quasi tre anni dall'omicidio di Renata Rapposelli, ieri nell'aula di corte d'assise del Tribunale di Teramo, si è svolta la richiesta di condanna del pubblico ministero Enrica Medori, che ha chiesto la pena a 24 anni di carcere per l'ex marito della donna Giuseppe Santoleri e l'ergastolo per il figlio Simone, entrambi accusati di omicidio volontario e soppressione di cadavere per la morte della pittrice Teatina. Secondo l'accusa, i due imputati avrebbero ucciso Renata Rapposelli al termine di un'accesa discussione per questioni economiche a Giulianova, dove la donna si era recata proprio per incontrare l'ex marito e il figlio il 9 ottobre del 2017. A denunciare la scomparsa di Renata Rapposelli erano stati alcuni amici della donna, con il cadavere ritrovato diversi giorni dopo in una scarpata vicino al fiume Chienti nelle Marche. Dopo la requisitoria del PM è stata la volta delle parti civili, che si sono associate alla richiesta di condanna e che hanno chiesto un risarcimento da anni di 500.000 euro a favore della figlia della pittrice Maria Chiera Santoleri e di 10.000 euro a favore dell'associazione Penelope. A difendere l'ex marito l'avvocato Alessandro Angelozzi, che invece ha chiesto l'assoluzione del suo assistito dal reato di omicidio, puntando sulla debolezza dell'uomo e dunque non in grado di agire da solo. Per oggi invece è prevista una nuova udienza, nel corso della quale si svolgerà la ringa degli avvocati Gianluca Reitano e Gianluca Carradori, difensori di Simone. Nel tardo pomeriggio è attesa la sentenza.